Ci vogliamo provare? Ok. Io non so da dove iniziare. Tu lo capisci perché voglio rimanere a Milano? No. Carlo, questo non è però il modo migliore per incominciare. Ma non lo capisco. Allora, avevamo deciso di passare dei periodi qui? Ne avevamo parlato. Eravamo sposati, parlavamo di tante cose, volevamo trasferirci in America, mettere una credenza o come si chiama, un sideboard dietro al divano. Non mi pare che l'abbiamo mai fatto. Ma se hai rifiutato un lavoro che ci avrebbe fatto rimanere qui per un anno? Era una roba che non volevo. Avevamo una bellissima compagnia, una bellissima vita dove eravamo. E tu quella la chiami una vita bellissima? Sai a che cosa mi riferisco? Non parlo del nostro matrimonio, parlo della nostra vita a Roma professionalmente. Non lo so, sinceramente io non ho mai voluto nient'altro. E' questo il problema, Carlo, che io ero tua moglie. Avresti dovuto pensare anche alla mia di felicità. Eri felice. Hai deciso dopo di non esserlo stata prima. Oddio, ok, ok, rincominciamo. Carlo, io adesso qui ho un lavoro, ho la mia famiglia. Ho accettato di mandare Enrico qui a scuola per la tua serie TV, sapendo che quando poi l'avresti finita lui sarebbe tornato a Roma. Ma questo non l'abbiamo mai detto. L'abbiamo detto invece. Ma quando l'abbiamo fatto? Non lo so, ma l'abbiamo detto, forse una volta al telefono. No, amore, questo non l'abbiamo mai detto. Amore, fammi finire. Scusa, e continuo a scapparmi. Avevamo detto che se Enrico sarebbe piaciuto e che la serie televisiva fosse andata bene, forse avremmo potuto passare dei periodi qui. Io non ero per niente incluso in questo tuo ragionamento, vedo. Carlo, tu non concepisci solamente desideri diversi dai tuoi, per questo non stiamo qui a Milano. E certo, non avresti mai voluto sposarmi, avresti voluto una vita completamente diversa. Ti do questa informazione, è andata così. Oddio. E allora che si fa? Io non lo so. Tu lo sai? Io no. L'avvocato dice che non si può più tornare indietro. Vaffanculo a quella stronza. La odio, dice che ho sempre vissuto qui anche se non è così. Come cazzo hai potuto farle dire una roba del genere? Ma perché il tuo è stato meglio? Non avresti dovuto licenziare quello di prima. E certo, anche a me serviva uno stronzo. Allora, ammettiamo che entrambi gli avvocati abbiano detto delle merdate. Il tuo di più. Ma il tuo mi ha dato dell'alcolizzata. Tu hai reso la mia vita un inferno. E tu quella da sposata. E certo, ora quella da sposata era un inferno. Cioè, è assurdo, è assurdo. E adesso che cosa hai intenzione di fare? Di scaricare tutto sul tuo figlio? Per ottenere tutto quello che vuoi? Non è quello che voglio. Cioè, è quello che era. Ma quello che era, era la cosa migliore per lui. Ah, ecco. Mi domandavo quando avresti pensato al bene di tuo figlio. Ma vaffanculo! No, vaffanculo tu! Se solamente tu ascoltassi quello che vuole tuo figlio, forse ti renderesti conto che lui vive meglio qui. No, vaffanculo, 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 vaffanculo. Grazie.